Un rapporto legato a doppio filo, quello tra politica ed economia con le banche che stanno vivendo anche e soprattutto in Toscana dei giorni davvero e proprio risico. Oggi la riunione dell'Assemblea a San Casciano per quanto riguarda Banca Chianti. Nella giornata di ieri Banca di Cambiano ha annunciato di diventare ufficialmente una S.P.A. La Banca di Cambiano abbandona il mondo del credito cooperativo dal 1 gennaio 2017. L'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato all'unanimità il conferimento dell'attività bancaria in S.P.A. Si tratta della prima BCC italiana ad esercitare la why out dal credito cooperativo. Sono stati riconfermati nei ruoli di Presidente e Direttore Generale Paolo Regini e Francesco Bosio. La voglia di tenere alta la bandiera dell'indipendenza è stata ed è la prima ma non l'unica ragione che ha spinto la Banca di Cambiano, avendo i requisiti necessari, cioè un patrimonio superiore ai 200 milioni di euro, a scegliere la strada dell'autonomia, ha detto Paolo Regini, presidente della Banca Toscana. Regini ha spiegato che la Banca ha scelto questa strada rifiutando da subito di intrupparsi nel nuovo gruppo nazionale egemonizzato dalla Federcasse, come previsto dalla riforma, che ridurrebbe la banca ad un ingranaggio privo di autonomia come parte di un meccanismo elefantiaco, dice, costoso e penalizzante ed inoltre non pienamente condiviso dalle stesse BCC aderenti, come anche le cronache recenti del movimento delle banche hanno dimostrato.